Chi è con noi stasera pensa non abbia bisogno di presentazioni quindi sono con noi Fabrizio Maronta e Germano Dottori che ringraziamo per la loro presenza e soprattutto per il tempo che ci dedicheranno nel presentare questo nuovo volume che è molto interessante perché è anche un po' distante da quello che vediamo di solito perché è focalizzato e concentrato sull'Italia quindi il nostro paese ovviamente parliamo di un numero di Limes quindi non parleremo di politica interna o quantomeno non strettamente di politica interna e inizio subito con una domanda a te Fabrizio cioè perché questo volume e qual è questa certa idea d'Italia? Buonasera sono io che ringrazio te e voi tutti per essere qui questa sera e ringrazio anche ovviamente il collega Germano che mi ha raggiunto e che mi ha tra l'altro allietato il viaggio perché abbiamo fatto il viaggio insieme per due ragioni fondamentalmente innanzitutto perché la nostra testata recita rivista italiana delle geopolitiche questo vuol dire avere uno sguardo italiano sul mondo sicuramente ma anche occuparci di noi stessi cioè di come noi stiamo nel mondo comunque di come pensiamo che vorremmo e dovremmo starci e poi perché un po' gli strilli come si dice in gergo cioè i sottotitoli della copertina lo dicono lo suggeriscono noi siamo in una fase devo dire in buona compagnia non solo l'Italia ma insomma in cui siamo avviluppati da una sindrome del declinismo se posso usare un ismo cioè dall'idea che ci siano delle diciamo inevitabilità storiche a cui siamo condannati e che queste inevitabilità congiurino contro di noi ora sicuramente ed è quello che facciamo nel volume insomma forniamo le nostre diagnosi nel senso che ci sono sicuramente una serie di macroscopiche problematiche che affliggono il nostro paese non solo il nostro paese ma il mal comune non è necessariamente un mezzo gaudio in questo caso però c'è anche insieme al pessimismo della ragione un pochino di ottimismo della volontà in questo numero e quindi la constatazione storica per l'appunto che questo paese è stato sicuramente in alcuni momenti la sua storia peggio di come stia adesso e anche l'idea un po' machiavellica diciamo che c'è sì la fortuna ma c'è anche l'opera nelle umane sorti insomma a orientare i nostri destini e da questo punto di vista per chiudere appunto sulle ragioni di questo numero questo numero tenta quindi diciamo una parte fondamentalmente descrittiva e poi una parte propositiva ma lo fa in una prospettiva sempre diciamo storica non per rifuggire dal qui e ora cioè dalla difficoltà del presente all'incognita del presente dell'immediato futuro ma perché diciamo siamo convinti che una delle ragioni per cui ci si abbandona oggi al declinismo o in generale comunque alla diciamo all'idea che diciamo questo paese sia per certi aspetti condannato condannato a subire se stesso diciamo le intemperanze del mondo sia perché abbiamo smesso fondamentalmente di pensare diciamo alla nostra al nostro paese alla nostra vicenda nazionale come un continuum storico e ci appiattiamo sul presente dato che il presente effettivamente un presente problematico ne deduciamo che quindi non abbiamo diciamo chance il perché e per come abbiamo smesso di anche studiare banalmente la nostra storia lo ne parliamo nel volume magari ne parliamo anche stasera però lo assumiamo come dato diciamo di fatto nel senso come dato empirico come evidenza e questo probabilmente è uno dei problemi che ci portiamo appresso in questa fase è questa questo elemento del decidere del fare qualcosa del decidere il fatto che si possa fare qualcosa mi ha fatto tornare in mente il tuo capitolo perché trovate il contributo nel capitolo l'italia si riarma lentamente però si sta riarmando cioè già il ti già sul titolo sei dinamico quindi ti chiedo chi sta facendo qualcosa in questo momento visto che ne dai un'analisi così dettagliata allora approfitto della opportunità che mi dai di rispondere a questa domanda anche per raggiungere qualche cosa a quanto fabrizio ha detto poco fa in realtà questo numero è strettamente legato al numero che l'ha preceduto nel numero precedente abbiamo fatto una specie di ricognizione della situazione della guerra grande come la chiamiamo noi no cosa sta succedendo in questo momento nel pianeta e a che punto siamo nelle due grandi vicende che contrappongono russia ucraina e israeliani hamas ma anche più in generale la grande sfida che in atto per la supremazia mondiale che coinvolge anche la cina eccetera la seconda tappa di tutto questo era ed è il numero specificamente italiano che è in vendita a questo mese noi abbiamo voluto inserire l'italia in questo contesto per capire che carte abbiamo in mano come siamo messi e cosa si dovrebbe fare per ridurre i rischi che sono attorno a noi e sfruttare le opportunità che al contempo si stanno comunque creando perché in ogni momento in cui si verifica un cambiamento o c'è una fase di accelerazione dinamica della storia del conflitto delle rivalità eccetera ci sono pericoli ma ci sono anche possibilità di ricavarsi degli spazi e di perseguire gli interessi nazionali per quanto riguarda il mio contributo il titolo che aveva proposto era sostanzialmente identico ma aveva in più un punto io volevo enfatizzare questo elemento della lentezza del riarmo no quindi l'italia riarma punto lentamente però che cosa succede se noi andiamo a verificare l'andamento della spesa militare in italia dovremmo dare ragione guardando i numeri anno per anno a giornalisti come federico rampini io peraltro stimo moltissimo il quale sulla base di questi numeri dice ma non c'è nessun riarmo in atto invece non è così accade semplicemente che per i vincoli di bilancio che abbiamo europei e per l'impopolarità che presso di noi suscita qualsiasi ipotesi di incremento serio delle spese militari che cosa fanno i governi questo che al potere adesso come quelli che l'hanno preceduto immaginano un rinnovamento dello strumento militare che viene proiettato nell'orizzonte dei 10 15 anni periodicamente in parlamento arrivano dei programmi di acquisizione armamenti che impegnano un ammontare molto limitato di risorse nell'immediato nei primi tre o quattro anni e però preparano un sentiero di incremento molto pronunciato nelle fasi successive di sviluppo e acquisizione del sistema d'arma per dirne una per dirne una ci sono dei programmi che partono con da spese quest'anno di 60 milioni e che poi invece magari nell'arco di 10 15 anni impegnano più di un miliardo funziona in questa maniera quindi in realtà il riarmo c'è ma è lento perché così impongono le ragioni della politica interna e le ragioni della politica della politica di bilancio tuttavia è abbastanza evidente che c'è una crescita della consapevolezza della difficoltà delle sfide che dobbiamo fronteggiare il ministro della difesa attuale in parlamento ha più volte ricordato alle persone che lo ascoltavano più o meno attentamente in almeno una circostanza intervenendo in replica al termine di una discussione lui ha detto ma evidentemente non mi state ascoltando perché nei vostri interventi è evidente che fate riferimento a cose che io in realtà vi ho già detto ma che voi immaginate che invece io non vi abbia mai detto lui sostanzialmente cosa ha cercato di spiegare cosa sta cercando di far capire al mondo politico italiano che noi stiamo entrando in un'epoca in cui non possiamo più immaginare che la difesa degli interessi nazionali con le armi sia confinata soltanto a casa nostra e lui dice cresceranno sempre di più le circostanze le ipotesi gli scenari in cui saremo costretti a difendere gli interessi nazionali del nostro paese con le armi in pugno e quanto sta accadendo nel mar rosso questo fondamentalmente ci sta dicendo le propaggini del conflitto tra israele e hamas attraverso gli uti creano un problema alla portualità italiana perché rendendo difficile o più rischioso l'attraversamento del mar rosso incentivano le principali compagnie di trasporto commerciale marittimo a bypassare l'africa attraverso il cavo di buona speranza e andare direttamente a scaricare delle merci sui porti atlantici europei appunto evitando il passaggio per il mediterraneo allora che cosa significa tutto questo se un fatto rispetto al quale noi non possiamo esercitare un'influenza diretta noi non possiamo chiudere il conflitto tra hamas e israele non ne abbiamo la capacità non non abbiamo i mezzi per fare una cosa del genere è un conflitto intrattabile anche per gli stati uniti figurarsi per noi però a un certo punto possono verificarsi degli episodi anche a distanza da quel teatro d'operazioni che minacciano degli interessi nazionali anche non immediatamente percepibili tutto questo che cosa significa significa che anche un paese come l'italia che ha rinunciato a pensare il mondo che ha rinunciato a concettualizzare la distribuzione dei propri interessi nazionali al di fuori del nostro territorio e del bacino diciamo del mediterraneo a un certo punto deve prendere atto di una realtà che ci costringe a fare di più fare molto di più quindi da tutto questo è derivato anche un cambiamento della pianificazione militare che tende a dotare il nostro paese della capacità di agire da solo anche laddove finora non è mai arrivato sì è vero che noi facciamo parte dell'unione europea ma nell'integrazione militare europea non crede nessuno è vero anche che facciamo parte dell'alleanza atlantica che consideriamo l'architrave della nostra politica di sicurezza però siamo anche diventati coscienti del fatto che non sempre e non ovunque gli Stati Uniti saranno con noi nel proteggere gli interessi occidentali in cui c'è anche l'interesse nazionale italiano allora che cosa occorre fare? Tocca darsi da fare e acquisire anche delle capacità autonome ci sono tante piccole cose che non vengono viste gli investimenti che facciamo nel potenziamento delle capacità satellitari militari per esempio hanno un senso soltanto se tu a un certo punto stai immaginando di dover accrescere e intensificare la tua azione di monitoraggio sugli scenari in cui i tuoi interessi possono essere messi a rischio che poi fondamentalmente adesso che il terrorismo è un attimino più debole in Europa e in Occidente quello che a noi interessa è la sicurezza energetica e la sicurezza dal punto di vista migratorio quindi quello che noi dobbiamo andare a monitorare è il grande spazio che va dal Golfo di Guinea, Sahel, Corno d'Africa e imboccatura dell'Oceano Indiano questa è l'area in cui noi dobbiamo essere particolarmente vigili e in effetti è lì che andiamo a trovare i contingenti oppure le squadre navali nostre più lontane dai confini nazionali del nostro paese Grazie mille, a partire da questo ti chiedo di fare anche una riflessione sull'elemento politico nel senso abbiamo parlato di questo riarmo molto lento che però non è iniziato col governo Meloni una visione del ministro Crosetto che è sicuramente più improntata quasi a un'autonomia direi dagli Stati Uniti un contesto che è diventato molto più compresso che forse ci ha fatto realizzare delle mancanze che è più recente quindi i due conflitti che sono scoppiati comunque da relativamente poco e quindi appunto ti chiedo una riflessione sull'elemento politico quanto conti la politica come la intendiamo cioè il tradizionale schieramento destra e sinistra se in realtà il vincolo di bilancio c'è purtroppo da molto più tempo per una crisi economica che continuiamo a trascinarci dietro che dopo approfondiamo anche con Fabrizio e un desiderata agli Stati Uniti del 2% del PIL investito che rimane un desiderata perché non ci siamo arrivati e forse tu ci dirai non ci arriveremo mai allora le cose che hai detto chiamano in causa tutta una serie di riflessioni necessarie intanto una cosa che vorrei dire per quanto e credo anche di averlo scritto per quanto il Ministero degli Affari Esteri italiano sia pieno di eccellenze professionali e di persone estremamente capaci io ho la netta sensazione che l'unica amministrazione e in ogni caso l'amministrazione che per prima ha colto il segno dei tempi è proprio quella della difesa è la difesa che da 4-5 anni almeno se non di più richiama l'attenzione sul fatto che negli scenari di crisi non possiamo più immaginare di dare per certa la presenza americana perché già in più occasioni questo diceva l'ex capo di Stato Maggiore Enzo Venciarelli prima che venisse rimpiazzato dall'ammiraglio Cavodragone ci sono dei contesti in cui noi immaginavamo di trovare gli americani o che gli americani fossero con noi invece gli americani non c'erano allora siccome la difesa è quella che mette gli uomini sul campo che rischiano la vita non è del tutto sorprendente che la sua sensibilità in rapporto a questo genere di evoluzioni si sia rivelata maggiore rispetto a quella che hanno i diplomatici che probabilmente per loro formazione tendono a frequentare certi ambienti della politica nei paesi in cui si trovano piuttosto che essere effettivamente sul campo ovviamente ci sono anche diplomatici che vanno sul campo ma per capire esattamente quello che vogliono o che sono disponibili a fare gli americani probabilmente le relazioni dirette tra generali tra ammiragli e ammiragli eccetera eccetera dicono molto di più almeno dal mio punto di vista non mi spiego altrimenti questa differenza questa differenza di percezioni quindi è qualcosa che parte già da qualche anno e sistematicamente i documenti di pianificazione militari se si chiamano DPP documento programmatico pluriennale della difesa sempre proiettati su arco triennale non fanno che aprirsi da tempo, da anni con una premessa geopolitica il cui tratto fondamentale è proprio questo qui della presa d'atto della crescita del disordine internazionale e del ripiegamento degli Stati Uniti che poi tra l'altro sono due cose che hanno un nesso di causa-effetto non perché il disordine sia interamente determinato dal ripiegamento degli Stati Uniti ma certamente il fatto che il gendarme superstite non è più disponibile a svolgere una funzione di polizia internazionale ovviamente non è una cosa che scoraggia chi vuol creare caos dal farlo tra l'altro è proprio nell'ambiente della difesa che nasce il concetto di Mediterraneo allargato che è un concetto che bisogna dare atto effettivamente ai nostri ambienti di pianificazione strategica una volta tanto essere particolarmente lungimirante perché non vede il Mediterraneo tanto nella sua dimensione mediaticamente più consumata che è quella della frattura nord-sud che chiaramente esiste cioè tra la sponda africana da cui promanano migranti traffici di vario genere problemi diciamo di natura politico-territoriale per l'Italia quanto soprattutto la dimensione est-ovest che l'IMES ha spesso richiamata quella di medio oceano cioè di connettore attraverso rispettivamente il canale di Suez a est il sistema di Suez mi vorrebbe a dire a est perché non è solo il canale ma diciamo parte da Babelmandab come possiamo vedere adesso appunto dagli UTI quindi dall'imbocco del Mar Rosso ma ancora prima in realtà dagli stretti diciamo del sud-est asiatico e poi a ovest invece lo stretto di Gibilterra questa dimensione di Mediterraneo allargato che presuppone che quindi gli interessi dell'Italia al tenere questo mare aperto siano degli interessi che coinvolgono delle aree che non sono immediatamente individuabili da un punto di vista geografico come mediterranee tipo appunto l'imboccatura del Mar Rosso in cui adesso gli UTI sparano sulle navi è un concetto che appunto diciamo la nostra marina in particolar modo ma non solo ha elaborato da qualche anno a questa parte e che effettivamente prendendo spunto anche diciamo possiamo dire che magari non sia a 100% ferina del loro sacco però per dare diciamo per suffragare quello che tu dici Germano cioè loro diciamo l'hanno preso sviluppato e adattato al contesto italiano credo in modo direi idoneo diciamo alla nostra geografia e alla alla nostra geografia ai nostri interessi e alla verosimile capacità di proiezione della nostra forza perché poi bisogna sempre commisurare i fini e i mezzi ovviamente che è poi quello di cui parlavi tu fondamentalmente c'è da dire che la nostra marina ha sempre pensato molto in grande non si è mai concepita come una marina esclusivamente regionale anche se durante la guerra fredda per ovvia ragione siccome lo schema era quello del grande urto tra est e ovest fondamentalmente noi ci eravamo riservati una funzione ancillare rispetto alla marina degli Stati Uniti però già allora specializzandoci nella scorta al traffico quindi quello che noi stiamo facendo adesso nel Mar Rosso è qualche cosa alla quale la nostra marina sostanzialmente è pronta da 30 a 40 se non addirittura 50 anni e comunque c'è anche una notevole capacità di elaborazione tecnico-tattica all'interno del nostro stato maggiore della marina abbiamo inventato dei tipi di nave l'incrociatore porta elicotteri che prima ha un piccolo ponte a pop e poi piano piano questo ponte si allunga e diventa un tutto ponte questo è uno sviluppo diciamo contemporaneo che è stato attivato dalla nostra dalla nostra marina militare proprio perché si era capito all'epoca che avremmo avuto questa esigenza di proteggere il traffico non solo con la nave che è vicina ma anche con l'elicottero che allarga che allarga che allarga l'orizzonte l'aviazione e l'esercito hanno invece avuto sempre una una prospettiva come dire più circoscritta specie l'esercito il quale per molti decenni ha pensato solo ed esclusivamente alla protezione della soglia di Gorizia piano piano si è inventato una proiezione fuori dal territorio nazionale peraltro dipendendo in questo dalle forze armate con sorelle perché l'esercito da solo non ci arriva dall'altro lato del mondo ha bisogno che venga portato da navi o aerei grazie qualcuno fa ricerca e sviluppo quindi ti chiedo ancora di precisare un attimo il tipo di riarmo scusatemi nel senso che nel capitolo è anche specificato che non si tratta soltanto di un acquisto di materiale ma che è ritenuto necessario anche un investimento sulle risorse umane quindi gli effettivi sì allora c'è anche questo in ballo è abbastanza evidente che quello che è capitato in Ucraina ha dimostrato che si può economizzare fino a un certo punto sull'elemento umano allora fermo restando che non esistono i presupposti sociali e neanche le risorse per reintrodurre la leva che in realtà da noi non è che è stata abolita è stata solo sospesa quello che si sta cercando di fare è accrescere il numero dei soldati che possiamo ottenere in tempo di pace un primo aumento è già stato ipotizzato nell'ordine delle 10.000 unità con in più una riserva una riserva mobilitabile ci si sta lavorando sopra non è molto semplice e comunque neanche è veramente risolutivo perché parliamo di numeri ancora abbastanza circoscritti il tutto secondo me non sarà risolutivo se parallelamente a tutto questo non crescerà la robotizzazione militare questo è un problema che noi tutti dovremmo affrontare in occidente soprattutto in Europa l'Europa ha risorse demografiche scarse è vero che siamo diverse centinaia di milioni qui in Europa però è anche vero che i giovani disponibili sono pochi sono pochi la Danimarca che è un paese piuttosto piccolo la scorsa settimana ha annunciato che a fianco alla leva maschile obbligatoria introdurrà a breve la leva femminile obbligatoria per cercare di rimpolpare gli organici parliamo di un paese di un paese piccolo noi anche avremo verosimilmente problemi di questa natura la cosa che può aiutarci è la crescita dell'automazione e l'importazione di maggior automazione all'interno del sistema militare questa è una cosa sulla quale sicuramente si andrà avanti a partire dalla rivoluzione dei droni però al di là di questo quello che è importante sottolineare sia l'elemento umano ma anche dal punto di vista tecnologico ed industriale noi stiamo cercando di produrre da noi le cose soltanto dove non ce la facciamo compriamo ciò che è disponibile sul mercato in qualche caso inventiamo letteralmente delle cose penso in particolare a ciò che stiamo allestendo per le forze speciali per operare sui fondali c'è la dimensione della guerra sottomarina nuova quella che riguarda l'offesa o la difesa dei cavi sottomarini e in questo per esempio anche lì la nostra marina si sta mettendo all'avanguardia lavorando su questo specifico aspetto ti ringrazio soprattutto non solo per l'intervento molto preciso ma anche per aver rispettato quella che era la promessa cioè di andare contro un declino irreversibile offrendo anche perché non è scontato delle idee per superare questa crisi demografica che ormai pervasiva infatti è citata anche in un altro capitolo dal punto di vista militare l'Italia negli ultimi 10-15 anni è stata tutto meno che un paese in declino su questo non ci sono dubbi le nostre forze armate si sono ritagliate una credibilità e hanno acquisito una reputazione decisamente buona in campo occidentale ovviamente speriamo che questa reputazione non debba mai essere seriamente testata perché poi hai voglia a dire la preparazione militare quando scoppia un conflitto e tu sei coinvolto anche se sono le forze armate quelle in prima linea in realtà è la tenuta di un sistema paese che viene messo a prova non è mai soltanto un esercito una marina o un'aviazione a perdere o vincere una guerra è un paese che la vince o la perde e quindi anche lì forse dovremmo anche un po' preoccuparci bruttissimo termine a noi di Limes non piace della resilienza del sistema paese questo è un altro discorso completamente e sulle note invece della crisi demografica torno da te visto che nel tuo capitolo nel tuo contributo che si intitola all'Italia serve l'industria all'industria serve lo Stato anche l'elemento demografico è citato ed è citato come uno dei fattori principali ma ci parli in realtà di un sistema in crisi per più ragioni quindi oltre a chiederti una panoramica di quali sono queste ragioni ti chiedo anche di specificare perché all'industria serve lo Stato perché non è scontato come elemento in un paese come il nostro in cui comunque lo Stato ha sempre avuto un ruolo indiscutibile cioè comunque è sempre stato molto presente quindi quello che stiamo un po' implicando è che non è stato tanto efficace forse forse a volte non lo è stato ma il problema è più a monte di questo perché questo è un discorso che diciamo riguarda strettamente la politica industriale è un discorso importantissimo perché tra l'altro è uno dei discorsi diciamo del nostro momento storico non solo da noi però diciamo perché perché noi abbiamo alla fine diciamo sentito il bisogno di fare questo numero perché ehm se è vero che in questo momento molti paesi cosiddetti occidentali dico cosiddetti perché ci possiamo mettere dentro se volete anche il Giappone nel senso occidentali in un senso geopolitico del termine quindi come caratteristiche diciamo sociali economiche politiche eh hanno una serie di problemi che sono abbastanza simili per certi aspetti fanno eco gli uni agli altri la problematica demografica l'impreparazione all'idea di dover combattere una guerra nuovamente eh la disfunzionalità diciamo del 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 sistema politico da noi questo non è qualcosa che scopriamo con questo numero di rimes ovviamente ma siamo costretti a tornarci ciclicamente perché è un problema che ci trasciniamo e che diciamo produce delle conseguenze in maniera ciclicamente evidente da noi la diciamo i problemi che diciamo si possono riscontrare in molti paesi occidentali ci sembrano per certi aspetti acuiti da una disfunzionalità di fondo e questa disfunzionalità di fondo non ha a che fare solo e tanto con il modo in cui l'unità d'Italia è stata fatta e che quindi conseguentemente si è portata presso la questione meridionale tutto vero tutto giusto ma con un una scesura storica molto più recente a cui possono essere diciamo ricondotte molte disfunzionalità diciamo odierne e questa cesura è l'89 91 cioè fondamentalmente il crollo del sistema diciamo internazionale in cui stavamo fino a 30 anni fa perché devo questo perché udite udite noi la seconda guerra mondiale l'abbiamo malamente persa se non vado errato questo ha fatto di noi un protettorato privilegiato ma pur sempre un protettorato cioè noi siamo stati un paese felicemente etero diretto questo è un giudizio che possiamo dare storicamente ex post ma perché poi figuriamoci abbiamo avuto il terrorismo rosso e quello nero abbiamo avuto l'antamericanismo abbiamo avuto il filo americanismo abbiamo avuto tutto quello che volete ma diciamo globalmente parlando e storicamente parlando se noi prendiamo la guerra fredda noi siamo un paese che diciamo può freggiare del titolo di aver perso la guerra dalla parte giusta fondamentalmente voglio dire se fossimo stati all'altra parte della cortina di ferro oggi come oggi probabilmente questa discussione avrebbe luogo diciamo in un contesto e su termini leggermente diversi ora il fatto di essere un felice protettorato non toglie il fatto che tu sia un protettorato e questo comporta una serie di diciamo conseguenze punto primo tu hai un sistema politico involuto cioè un sistema politico molto più strutturato dell'attuale ma è che è sempre figlio di un'esigenza che sta a monte di te e che tu controlli fine a un certo punto quindi non è nella tua piena disponibilità sovrana che è quella di non far andare al governo direttamente il secondo partito comunista più grande dell'occidente dopo quello francese forse pari merito questo produce un sistema fortemente politico fortemente sbilanciato sui partiti noi non ci pensiamo perché per noi la politica sono i partiti ma non sta scritto da nessuna parte che la politica e i partiti debbano diciamo come dire coincidere in maniera così forte e totalizzante come è stato in Italia nei 50 anni e passa della guerra fredda quello è un esito del fatto che serviva un riferimento diciamo istituzionale anzi forse per certi aspetti preistituzionale cioè politico prima ancora che istituzionale che agli americani garantisse che i comunisti non governassero e quel riferimento era la democrazia cristiana che chiaramente non alternandosi fondamentalmente con niente salvo diciamo una parvenza di alternanza a cui si arriva con la stagione ultima del pentapartito fa sì che fondamentalmente diciamo il nostro sistema politico sia cresciuto e sia vissuto all'ombra di un vincolo esterno fortissimo che adesso non c'è più quando Germano diceva prima un giorno l'Italia militare si sveglia e scopre che gli americani non stanno più dove dovrebbero stare secondo le nostre coordinate geostrategiche è fondamentalmente quello perché nel frattempo sono cambiate le priorità degli Stati Uniti la Cina nuovamente la Russia sia ma al netto diciamo della tenuta del sistema occidentale che nel frattempo è cambiato perché ha incorporato i paesi dell'ex parto di Varsavia nella Nato quindi è un sistema occidentale diverso e soprattutto l'America non è più nelle condizioni di poter esercitare quel imperio che prima invece era l'alfa e l'omega del nostro orizzonte strategico perché che è tra l'altro l'argomento del numero che stiamo preparando di Limes l'America attraverso una crisi nera che durante la guerra fredda per quanto ci siano stati gli anni 70 della stagflazione della guerra in Vietram del Giappone che sembra sul punto di comprarsi Manhattan e tutto quanto diciamo quell'America comunque aveva diciamo degli atu degli assi nella propria manica che adesso oggettivamente non ha per ammissione degli stessi americani quindi punto primo noi abbiamo un sistema politico istituzionale destrutturato e lo abbiamo destrutturato anche molto oltre quello che ci è successo diciamo negli ultimi 30 anni perché abbiamo fatto una serie di riforme che hanno fondamentalmente disarticolato il rapporto tra centro diciamo e periferie dove centro non è un termine diciamo moralmente connotato e non nemmeno periferie non è che il centro è bello e le periferie sono brutte però fondamentalmente se tu oggi vuoi fare una politica centralizzata fai una fatica enorme in questo paese perché diciamo il governo centrale a me se non concesso che abbia le diciamo caratteristiche la volontà e le capacità fa una fatica enorme a imporre le proprie diciamo volontà volete la riprova il signor Mario Draghi il signor Mario Draghi si è portato appresso mezza banca d'Italia mezza banca europea degli investimenti ha avuto fondamentalmente carta bianca per poter spendere i soldi del PNRR perché se lui non avesse garantendo sulla sua persona accentrato nella presidenza del consiglio una serie di controlli diciamo e poteri di spesa non c'era modo di imporre la diciamo il ritmo di spesa richiesto al PNRR a regioni che potevano avere priorità diverse o semplicemente non avevano quelle capacità di spesa specialmente quelle del centro-sud esempio ma l'ho dovuto fare per vie traverse quasi aggirando anzi non quasi forse direi aggirando la costituzione diciamo vigente dal momento che quella costituzione prevede una serie di competenze esclusive delle regioni o condivise che ti impediscono fondamentalmente di fare una serie di politiche strutturali unitari in questo la demografia la demografia non vuol dire solamente numero di giovani il rapporto tra giovani e anziani e quindi tenuta del sistema sanitario tenuta del sistema pensionistico e quant'altro vuol dire anche qualità del sistema dell'istruzione qualità del sistema universitario e capacità di questi sistemi di essere fucina non solo diciamo di persone preparate ma anche di persone che si pensano come una comunità ma come fai tu ad avere diciamo un sistema dell'istruzione fucina di italiani per dirla alla giolitti quando tu hai diciamo una parcellizzazione estrema dei sistemi dell'istruzione per esempio tanto per fare un esempio le politiche infrastrutturali la portualità la grande industria noi abbiamo deciso a un certo punto anni 90 che non solo non ci serviva quel tipo di politica diciamo che aveva metastasizzato per certi aspetti diciamo anche l'economia ma che non ci serviva proprio la politica il risultato tra le varie cose però è che noi abbiamo fondamentalmente dismesso tutto il sistema della grande industria che era un sistema che molto più che in altri paesi viveva anche del rapporto con lo Stato perché per ragioni strutturali perché il capitalismo italiano è un capitalismo strutturalmente debole tendenzialmente piccolo storicamente perché siamo un paese che arriva tardi alla rivoluzione industriale in cui la rivoluzione borghese non c'è mai stata e quindi la borghesia produttiva e detentrice di capitale storicamente è piccola e poca ma anche perché essendo quel sistema partecipazione statale cassa e mezzogiorno fortemente insediato da una politica vorace abbiamo preso abbiamo buttato tutto il problema è che però e questo adesso lo stiamo riscoprendo adesso insieme ad altri quando si tratta di costituire dei sistemi industriali da zero per esempio i semiconduttori quindi diciamo le frontiere tecnologiche del momento le batterie l'intelligenza artificiale o quando si tratta di recuperarli perché li hai persi attraverso la deindustrializzazione con le delocalizzazioni anche un paese iper capitalistico non sospettabile di intelligenza diciamo con lo statalismo nel senso deteriore del termine come gli Stati Uniti che fanno si rimetteranno a fare la politica industriale ma la politica industriale che cos'è? è l'arbitrio politico che seleziona dei settori industriali su cui pensa di dover puntare e poi ci mette i soldi ci mette le politiche ci mette le risorse e un certo livello di risorse viene dallo Stato perché ha la capacità di mobilitarle perché ha la leva fiscale e perché ha la capacità soprattutto di convincere il grande capitale privato appuntarci perché lo Stato dice al capitale privato guarda dove non arrivo io per favore arriva tu ma arrivaci sapendo che io sono dietro di te cioè che c'è una scelta strategica dietro e questo in questo momento lo stanno facendo un po' tutti lo stiamo facendo anche noi ma con dei vincoli di bilancio stringenti perché siamo un paese che ha accumulato debito su questa storia del debito si potrebbe aprire diciamo un dibattito che non apriamo adesso ma diciamo c'è una domanda c'è una domanda che aleggia c'è una domanda che aleggia e la domanda è alla fin fine ma il debito pubblico è uguale ai debiti privati cioè nel senso alla fine noi ci diciamo sì vabbè se io Fabrizio Maronta voglio spendere metodicamente più di quanto guadagno vado in bancarotta divento un fallito quindi mando in rovina me stesso la mia famiglia e tutti quanti questo è palese perché io Fabrizio Maronta ho una capacità diciamo di spendere di raccogliere credito limitata a quanti di voi posso fare la quest o a dire mi resti 50 euro te li ridò domani la mia capacità di fare debito è nettamente inferiore rispetto a quella di uno Stato ma lo Stato ha una capacità di indebitamento infinita ovviamente no se ne sta accorgendo addirittura l'America allora noi chiaramente diciamo abbiamo un enorme problema in questo senso che è un problema che ci accomuna molti altri stati occidentali sicuramente con una differenza fondamentale rispetto a molti altri stati occidentali che siamo un paese tendenzialmente anziano in cui quindi diciamo le forze produttive tendono a essere poche meno di altri e soprattutto non deteniamo rispetto ad altri paesi leve strategiche da far valere sui mercati non siamo la prima economia manifatturiera d'Europa a differenza della Germania non siamo un paese a differenza della Francia che la prima economia manifatturiera d'Europa cioè la Germania reputa ancora politicamente indispensabile cioè noi siamo un paese diciamo che ha molto da offrire in termini di pezzi di questo paese che possono essere acquistati a saldo grandi industrie siti diciamo infrastrutturali tutto quanto ma non siamo per la Germania ciò che è la Francia cioè il come dire il passaporto della accettabilità in Europa cosa che invece la Francia continua ad essere per la Germania perché c'è un sacco di paesi in Europa che continuano ad avere paura della Germania e quindi hanno bisogno che ci sia un paese che ha dimostrato storicamente diciamo di essere diciamo pronta a fare la guerra alla Germania se serve che dice no no questi tedeschi sono buoni non sono più i tedeschi in termini garantiamo noi questo paese è la Francia non siamo noi non abbiamo agenzie di rating quelle ce l'hanno gli americani i francesi hanno provato a farsi da loro hanno fallito i cinesi hanno provato a farsi da loro hanno fallito quindi non abbiamo diciamo leve di raccolta e non abbiamo diciamo non siamo nemmeno quelli che dettano diciamo fino in fondo le condizioni dell'euro cioè quanto l'euro deve valere il cambio l'ira euro l'abbiamo subito perché quel cambio è stato imposto fondamentalmente la Germania quindi siamo un paese che ha una serie di debolezze che si porta appresso da prima diciamo che in questo momento vengono fuori che in qualche modo quindi diciamo una unità fondamentalmente incompiuta per certi aspetti delle debolezze strutturali di carattere economico perché è vero che abbiamo tanta industria ma è industria medio piccola tendenzialmente mentre in questo momento storico contano anche le dimensioni perché non basta la nicchia se tu ti devi inventare una filiera delle batterie hai bisogno di controllare grossi pezzi di manifattura e noi questa dimensione l'abbiamo completamente persa perché non abbiamo più olivetti non abbiamo più la chimica la farmaceutica c'è ma è media ed è a servizio di quella tedesca la meccanica c'è ma a parte Leonardo Finmeccanica e poco altro gravita fondamentalmente in quella galassia è roba medio piccola quindi diciamo siamo un paese che sconta tutto questo in questo momento questo vuol dire diciamo che siamo condannati a non contare niente ovviamente no ma dobbiamo essere consapevoli è un po' il filo conduttore di questo diciamo volume che tratti di politica industriale di politica diciamo scolastica e tutto quanto che noi dobbiamo puntare a contare nella parte di mondo diciamo in cui possiamo ambire a stare questa parte di mondo in questo momento non è la cena è chiaramente la Nato sono è chiaramente quella parte di mondo che afferisce agli Stati Uniti in cui poi a quel punto però tu devi contare anche se sei in grado di articolare l'interesse nazionale io ricordo e chiudo un illuminante episodio diciamo di qualche anno fa quando ho raccontato in varie occasioni questa cosa perché mi è rimasto impresso c'era fondamentalmente mezza amministrazione Bush Bush W in una città italiana che non sto a dire adesso da cui veniva un presidente del senato al tempo vigente che non sto a dire adesso era in Toscana mi fermo qui il cognome del presidente del senato ricordava un frutto per chi di voi se lo può ricordare e andiamo lì facciamo questo convegno c'era Richard Perle c'era David Fram c'era insomma mezza amministrazione conservatrice e noi diciamo no perché noi saremo con voi in Iraq fino all'ultimo e questi ci dicono sì va bene ma che volete in cambio da noi silenzio niente si dice ma veramente se tu dici una cosa del genere o chiedi l'effetto opposto la gente non si fida di te perché dice non è possibile questo perché questi evidentemente vogliono da me qualcosa che non mi vogliono dire perché è totalmente inconfessabile che vogliono che cosa vogliono la casa bianca cosa vogliono da me mentre invece gli inglesi e i francesi dicevano io voglio i contratti per BP i contratti per Total voglio questo voglio quest'altro quindi capite l'articolazione dell'interesse nazionale se posso se posso vorrei aggiungere qualche considerazione al margine tre i industria istruzione istituzioni tutti gli argomenti che tu hai toccato innanzitutto il tuo pezzo in questo numero è assolutamente da leggere probabilmente fra i più importanti che potete trovare nel numero in vendita adesso non fosse altro che per un fattore Fabrizio ci spiega perché l'industria è fondamentale è un fattore di potenza tanto per cominciare non è rimpiazzabile non è che tu puoi crescere e contare politicamente nel mondo se tu le manifatture e l'industria non ce l'hai non puoi vivere di servizi sperando di essere importante e rilevante sul terreno internazionale ed è vero che per essere importanti in campo industriale ci vogliono le politiche industriali che fanno gli stati moltissimi anni fa ahimè prima metà degli anni 90 io ho partecipato ai lavori pioneristici che facevano Carlo Gianni e Paolo Savona per tentare di importare in Italia il paradigma geoeconomico che significava impegnare in qualche modo lo Stato ad agire strategicamente in campo economico e il tutto muoveva da un assunto di base che non è che sia sufficiente per essere ricchi e contare nel mondo avere la piena occupazione e lavorare tutti o più o meno la differenza la fa ciò che produci perché ci sono delle industrie che ti garantiscono grande valore aggiunto e quindi distribuiscono redditi alti ed altre che invece no per anni ho spiegato a studenti nell'università dove insegnavo poi veniamo anche a questo punto e tu con un chilo di plastica puoi fare un chilo di buste per la spesa e non ci guadagni un granché un chilo di mattoncini lego e già chi ha dei nipoti o dei figli sa che il lego costa caro oppure ci fabbrichi due o tre macchine fotografiche come fanno i giapponesi e allora a quel punto il valore aggiunto che è intellettuale di investimento e quant'altro diventa significativo e ovviamente questo significa mano a mano che tu ti sposti verso l'alto della catena del valore e tu diventi più ricco e diventi anche più forte perché poi tra l'altro più ricco sei generalmente e più forte anche sei perché hai più risorse da convertire negli asset che servono per contare nella politica mondiale incluse le armi e questo è un fatto fondamentale quindi molto 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 lodevole questo sforzo che ha fatto che poi peraltro Fabrizio su questo terreno sta lavorando da tanto e quindi non è sorprendente che escano dalla sua pena questi articoli così forti così anche prescrittivi perché poi alla fine la tesi è questa l'industria centrale ci serve una politica per tutelarla ma vi ricordate il dibattito su All'Italia All'Italia contava per i posti di lavoro e non per il fatto di avere una compagnia di bandiera che potesse servire l'interesse nazionale a noi la perdita di All'Italia in qualche modo ha voluto dire dover in certi casi sacrificare alcune rotte sacrificare alcuni investimenti in paesi che erano per noi interessanti dover servirsi di compagnie straniere magari Air France che ha un accordo con l'intelligence francese in base al quale la business class viene imbottita di cimici cioè sono tutte cose certe volte certe volte ci sono delle società talmente strategiche che vale la pena di tenerle in perdita invece di chiuderle perché se tu le chiudi perdi un elemento importante nel sistema un po' come il concio di chiave che tiene in piedi un arco non so se mi spiego istituzioni la seconda la seconda attenzione il problema italiano è che noi abbiamo riformato in profondità il nostro paese ma a metà cioè noi abbiamo rinforzato i poteri locali abbiamo l'elezione diretta del sindaco sindaco politicamente responsabile ha un programma ne risponde se è eletto e non lo rispetta e delude i suoi elettori viene mandato a casa non è che si può equivocare c'è un consiglio no è il sindaco abbiamo creato i governatori regionali eletti a suffraggio universale lo stesso lo stesso cos'è che non abbiamo fatto abbiamo lasciato lo stato centrale debole cioè è mancato il terzo livello della riforma che significava eleggere creare il sindaco d'Italia o se volete il presidente di una repubblica presidenziale e non è per caso che non ce l'abbiamo non ce lo abbiamo perché noi italiani in ragione della storia che abbiamo abbiamo paura di centralizzare il potere la riprova noi abbiamo avuto due tentativi di riforma costituzionale che andavano con modalità differenti con modalità differenti nella direzione del rafforzamento del potere dello stato centrale e in particolare del potere esecutivo all'interno dello stato centrale sia quella di centrodestra che quella di centrosinistra sono state bocciate con la stessa percentuale 60-40 quindi non conta chi la propone è il concetto che noi italiani rifiutiamo perché da noi perché da noi per vivere la politica è uno strumento è uno strumento di occupazione o uno strumento di rendita di posizione viviamo di veti e di negoziazione continua della rimozione del veto io posso bloccare quest'opera pubblica cosa mi dà in cambio della mia accettazione del tuo investimento funziona così la politica italiana è un processo contrattuale continuo ed è vero quello che dice Fabrizio noi non contrattiamo con gli stranieri non contrattiamo con gli americani ma tra di noi di tutto di tutto e di più l'istruzione io ho insegnato alla LUIS per un po' d'anni bene la LUIS ha la pretesa secondo me correttamente essendo un'università basata a Roma di preparare dei giovani a lavorare all'interno della pubblica amministrazione e nel mondo della politica sapete una cosa? la LUIS da qualche anno ha abolito l'insegnamento in italiano tutti gli insegnamenti devono essere in inglese ditemi voi a proposito del formare gli italiani l'idea che prevale all'interno di una parte della nostra elita è invece quella di creare il cittadino globale senza bandiera e senza identità il che significa che puoi fare qualsiasi cosa basta che sia efficiente e funzioni tutto questo si riassume per voi che siete torinesi nella triste vicenda di Fiat avevate l'industria più importante di questo paese chi ne è e come l'abbiamo sostituita a proposito di inglese mi ricordo quando con il direttore andai a intervistare Marchionne poco prima che morisse mi colpì il fatto che nell'edificio nobile dell'ingotto quello dove risiede la dirigenza non si parlasse italiano perché erano tutti bilingui dal portavoce in giù le segretarie erano tutti bilingui e lui in partita quando si arrabbiava durante l'intervista di un'ora sarà successo 3-4 volte che strillasse un'aquila l'intervista era in italiano ma lui quando doveva dare gli ordini quindi praticamente quasi sempre strillando cioè praticamente sempre gli dava in inglese questo è interessante perché vuol dire che fondamentalmente la testa di quell'industria già non stava più qui ma molto banalmente tra l'altro il problema degli insegnamenti in inglese è che poi ti arrivano persone a fare lo stage all'IMES che non sanno scrivere in italiano questa è la cosa molto più grave dal mio punto di vista ma soprattutto ti arrivano persone che vengono a lavorare in una rivista di geopolitica che non comprendono la realtà dell'interesse nazionale non c'è niente da fare l'interesse nazionale italiano lo devi elaborare codificare condividere discutere nella nostra lingua non nella lingua di un altro noi non possiamo pretendere non possiamo pretendere che il resto del mondo faccia gli interessi del nostro paese meglio di noi noi possiamo anche sbagliare è ovvio siamo umani e a voglia di errori che quanti ne abbiamo fatti anche di drammatici e tragici ma come facciamo a pensare che siano gli altri nella condizione di far meglio di noi per noi stessi e soprattutto e soprattutto col desiderio di far del bene e non dell'utile per se stessi io questa cosa qua io credo che il punto fondamentale sia questo assolutamente è centrale ed è il discorso che facciamo fondamentalmente fin dall'editoriale in questo numero cioè noi ci chiediamo per quale ragione non siamo capaci di far questo non siamo capaci perché il tutto comincia da un come dire da un deficit pedagogico non insegniamo agli italiani ad essere italiani e questo è il punto quasi che fosse un peccato e invece no non lo è ripeto perché poi alla fine se non ci adeguiamo finiamo come quelli che partecipano a un gioco avendo le carte truccate a proprio danno gli altri giocano con le carte buone a te arrivano sempre le carte cattive e non capisci perché continui a perdere quindi voglio dire di nuovo discorso dell'industria quanto fosse importante la Fiat per l'Italia lo abbiamo scoperto dal momento in cui la Fiat qua non c'è stata più noi producevamo a un certo punto quasi due milioni di autovetture due milioni di autovetture e non erano proprio le peggiori del mondo adesso cosa ci è rimasto e badate la gran parte degli italiani che l'Italia è fuori dall'industria dell'auto di fatto neanche lo ha percepito neanche lo ha percepito ed è una cosa pregnante della nostra identità nazionale siamo sempre stati un paese produttori di macchine l'industria meccanica l'altra cosa perché fin meccanica come Leonardo e anche fin cantieri perché stanno in piedi e sono grandi imprese perché nei loro confronti non si applicano le normative comunitarie operano nel comparto difesa sicurezza materiali d'armamento che vive di commessa pubblica di nuovo a dimostrare che lo Stato conta e lo Stato conta questo questo è quindi veramente credo che il tuo pezzo dovrebbe essere addirittura inserito in una posizione migliore più visibile ancora però onestamente dal mio punto di vista è fondamentale no a parte questo ti ringrazio però allora diciamo tirando le fila diciamo l'idea alla base del volume è diciamo che questo paese ha diciamo dei problemi strutturali che abbiamo diciamo sommariamente elencato qui che sono in parte frutto di una diciamo di una dinamica specifica e in parte però ci accomunano ad altri paesi diciamo annoverabili al nostro per taglia demografica traiettoria storica recente caratteristiche socio-economiche demografiche e quant'altro il punto fondamentale è che diciamo quello che veramente c'è di nuovo da un punto di vista geopolitico oltre chiaramente all'involuzione di alcune situazioni che sono state sgovernate per troppo tempo è l'ambiente internazionale diciamo se non ostile quantomeno sicuramente difficile questo è diciamo il nodo fondamentale questo ti obbliga ti obbliga ad attrezzarti ad attrezzarti materialmente ma attrezzarti anche diciamo emotivamente intellettualmente a diciamo pensare per te la cosa interessante uno dei cortocircuiti è che noi dal momento che siamo un paese che per l'appunto nella nostra storia repubblicana quindi post bellica è vissuto di vincolo esterno perché pensateci bene c'era il vincolo americano ma c'era il vincolo sovietico nel senso che comunque il nostro partito comunista non era un partito diciamo libero sovrano nel senso prettamente cioè fondamentalmente soldi direttive e quant'altro questo al netto poi delle istanze sociali e di ciò che i partiti hanno rappresentato veicolato e fatto diciamo nella storia recente di questo paese però sto parlando dei riferimenti esterni c'erano chiaramente poi c'era il riferimento ecclesiastico che era un riferimento esterno se volete nella misura in cui diciamo il Vaticano diciamo caduti il non expedit i cattolici vive a Dio erano parte della vita anche politica di questo paese aspetto fondamentale del partito di governo permanente la democrazia cristiana però era comunque diciamo un corpo altro rispetto all'Italia repubblicana propriamente detta quindi noi siamo un paese che è divenuto e maturato è divenuto libero ed è maturato nella libertà diciamo democratico-repubblicana sempre con dei vincoli esterni perennemente adesso diciamo che questo vincolo è fortemente attenuato ho messo in discussione il problema fondamentale prima ancora delle risorse materiali è proprio l'attitudine mentale a navigare in mare aperto non so se diciamo se rendo dire ed è questo un po' il filo conduttore diciamo di questo volume come di altri che abbiamo fatto in realtà sul Italia di questo forse più di altri perché questo mare in questo momento è particolarmente agitato e non sta scritto a nessuna parte che chi ti sta vicino debba essere necessariamente pronto a fare il tuo interesse questo vale per gli Stati Uniti e vale anche per l'altro grande ambito che tu giustamente hai citato che è l'Unione Europea cioè l'Unione Europea può essere più della somma delle sue parti se le sue parti però cioè i singoli paesi diciamo non la vivono come una supplenza ma come un ambito in cui fare meglio il proprio interesse questo i tedeschi i francesi ce l'hanno perfettamente chiaro anche gli inglesi che sono giunti erroneamente o meno alla conclusione che diciamo l'Unione Europea non serviva loro in questo senso e quindi sono usciti probabilmente facendo un errore ma guidati dall'idea diciamo che l'Unione Europea non serviva più il loro interesse nazionale come diciamo si aspettavano che dovesse ce l'hanno molto ben presenti i paesi del fianco est tu parli con un polacco oggi diciamo ti dirà che l'Unione Europea è fondamentalmente l'altra faccia della Nato e che l'Unione Europea diciamo quei paesi devono stare e magari anche l'Ucraina e magari pure la Moldova perché è diciamo una funzione antirussa quindi diciamo è la quintessenza ma non è che questi paesi sono peggio di noi cioè che questi paesi sono sfasciano l'Europa così facendo questi paesi probabilmente concorrono a diciamo renderla o meglio se effettivamente diciamo ci fosse un gruppo di paesi che necessariamente devono essere più grandi penso la Germania penso la Francia e è la proposta di questo numero l'Italia e la Spagna un gruppo di paesi che giunge alla conclusione che l'Unione Europea deve servire diciamo a uno scopo strategico che deve essere in qualche modo parallelo a quello degli Stati Uniti ma non necessariamente dettato diciamo dalla convenienza statunitense che in questo momento storico non è necessariamente sempre quella europea l'Unione Europea diciamo viene paradossalmente ma nemmeno troppo arricchita da chi ci sta dentro pensando all'interesse nazionale piuttosto che viceversa perché se tu stai dentro l'Unione Europea oggi pensando che l'Unione Europea sia un diciamo una forma di surrogato della tua capacità di pensare autonomamente e perseguire autonomamente i tuoi interessi finisci fondamentalmente che non fai il tuo interesse ma non fai nemmeno quello della coalizione di cui fai parte perché a questo punto non entri in network industriali diciamo non concorri a usare il tuo strumento militare in maniera intelligente cioè non fai quello per cui fondamentalmente puoi apportare diciamo un plus essendo il pezzo di un tutto e invece ti rimetti nelle mani di altri che sono esattamente bravi quanto te a sbagliare con la differenza che in questo caso sbagliano tra l'altro diciamo con le tue risorse il che francamente mi sembra assolutamente assurdo cioè è veramente un'assurdità questo come giustamente dicevi tu è assurdo zero risk sì di un'assurdità di un'assurdità di un'assurdità di un'assurdità di un'assurdità